O Simon Mago, o miseri seguaci, che le cose di Dio, che di bontate, deon essere spose, e voi rapaci, per oro e per argento avvolterate, or convien che per voi suoni la tromba, però che nella terza bolgia state. Già eravamo alla seguente tomba, montati dello scoglio in quella parte, che appunto sovramezzo il fosso piomba. O Somma Sapienza, quanta è l'arte che mostri in cielo, in terra e nel mal mondo, e quanto giusto tua virtù comparte. Io vidi per le coste e per lo fondo, piena la pietra livida di fori, d'un largo tutti, e ciascun era a pondo. Non mi pare anmena ampi né maggiori, che quei che son nel mio bel San Giovanni, fatti per loco di battezzatori, l'onde li quali, ancor non è molt'anni, ruppio per un che dentro vannegava, e questo sia su gel cognomo sganni. Fuor della bocca ciascun, soperchiava d'un peccator gli piedi, e delle gambe infino al grosso, e l'altro dentro stava. Le piante erano a tutti accese entrambe, perché si forte guizzavan le giunte, che spezzate averien ritorte e strambe. Qual suole il fiammeggiar delle cose unte, muoversi pur su per la strema buccia, tal'era lì dai calcagni alle punte. Chi è colui maestro che si crucia guizzando più che gli altri suoi consorti, dissi io, e cui più roggia fiamma succia? Ed egli a me, se tu vuo chi ti porti laggiù per quella ripa che più giace, da lui saprai di sé e dei suoi torti. Ed io tanto me bel quanto a te piace, tu sei signore, e sai chi non mi parto dal tuo volere, e sai quel che si tace. Allor venimmo in sull'argine quarto, volgemmo e discendemmo a mano stanca, laggiù nel fondo foracchiato e arto. Lo buon maestro, ancor della sua anca, non mi dipuose, si mi giunse al rotto di quel che si piangeva con la zanca. O qualche sé che il di su tien di sotto, anima trista come pal commessa, comincia io a dir, se puoi fa motto. Io stava come il frate che confessa lo perfido assassin, che poi che fitto richiama a lui perché la morte cessa. Ed egli gridò, se tu già costirito, se tu già costirito, Bonifazio, di parecchi anni mi mentì lo scritto, se tu si tosto di quella versazio, per lo qual non temesti torre anganno la bella donna, e poi di farne strazio. Tal mi feci io, quai son color che stanno, per non intender ciò che è lor risposto, quasi scornati e risponder non sanno. Allor Virgilio disse, digli tosto, non son colui, non son colui che credi. E io risposi come a me fu imposto, perché lo spirito tutti storse i piedi, poi sospirando e con voce di pianto, mi disse, dunque che a me richiedi? Se di saper chi sia, ti calco tanto, che tu abbi però la ripa corsa. Sappi chi fui vestito del gran manto. E veramente fui figliuol dell'orsa, cupido sì per avanzar gli orsatti, che su l'avere equi me misi in borsa. Di sotto al capo mio son gli altri tratti che precedetter me simoneggiando, per le fessure della pietra, piatti. Laggiù cascherò io altresì, quando verrà colui chi credea che tu fossi, allor chi feci il subito dimando. Ma più è il tempo già che i piedi mi possi, e chi son stato così sotto sopra, che non starà piantato coi piedi rossi. Che dopo lui verrà di più laida opra, di ver ponente, un pastor senza legge, tal che convien che lui e me ricopra. Nuovo iasson sarà di cui si legge ne Maccabei, e come a quel fu molle suo re, così fia lui chi franciarece. Io non so se mi fui qui troppo folle, chi pur risposi lui a questo metro. De, ormi di, quanto tesoro volle nostro signore in prima da Santro, che ponesse le chiavi in sua palia. Certo non chiese se non viemmi retro. Né Pier, né gli altri tolsero a Mattia oro o d'argento, quando fu sortito all'oco che perdè l'animaria. Però ti sta che tu sei ben punito, e guarda ben la maltolta moneta che esserti fece contra Carlo Ardito. E se non fosse cancorlo mi vieta, la reverenza delle somme chiavi che tu tenesti nella vita lieta, io userei parole ancor più gravi che la vostra avarizia il mondo attrista, calcando i buoni e sollevando i bravi. Di voi, pastor, s'accorse il vangelista, quando colei che siede sopra l'acque puttaneggiar coi regi a lui fu vista, quella che con le sette teste nacque, e dalle dieci corna ebbe argomento, finché virtute al suo marito piacqua. Fatto v'avete Dio d'oro e d'argento, e che altro è da voi all'idolatre, se non che li uno e voi ne orate cento? Ai, Costantin, di quanto mal fu madre, non la tua conversion, ma quella dote che da te prese il primo ricco padre. E mentre io li cantava cotainote, o ira o coscienza che il mordesse, forte spingava con ambo le piote. I credo ben cal mio duca piacesse, con si contenta labia sempre attese lo suon delle parole vere espresse. Però con ambo le braccia mi prese, e poi che tutto su mi sebbe al petto, rimontò per la via onde discese. Ne si stancò d'avermi a sé distretto, si immemportò sovra il colmo dell'arco, che dal quarto al quinto argine è tragetto. Quivi soavemente spuose il carco, soave per lo scoglio sconcio ed erto, che sarebbe alle capre duro varco. Indi un altro vallon mi fu scoperto. Diciannovesimo canto Oh, Simon, mago, eccetera, ai Costantin, eccetera, chi è questo Simone? E perché Dante se la prende con Costantino, imperatore? A queste due apostrofi sta appeso quasi per le estremità il canto diciannovesimo dell'inferno, purpureo, siparietto ecclesiastico, dove Dante, attore, tiene in permanenza la ribalta fino ad esibirsi nel finale in un monologo furente e scandaloso, e Dante, poeta, rimonologa tutto, rincarando ira e sarcasmo con un dosaggio inesorabile dell'ira e del sarcasmo. Il presentatore del varietà espone la cronaca all'irrisione della platea, ammiccando al senso comune. Dante, qui, con tecniche da presentatore di varietà, espone la cronaca all'udibrio dei millenni, riscontrandola con la verità, depositata nelle sacre scritture. Ma ripassiamoci in fretta agli antefatti. Narrano dunque gli atti degli apostoli 8, 9 e 24 di tal Simone che esercitava le arti magiche e incantava le genti in Samaria. Incantato a sua volta dalle parole e dai prodigi del diacono Filippo, credette e prese il battesimo. Ora accadde che, avendo veduto gli apostoli Pietro e Giovanni infondere lo Spirito Santo ai battezzati, con l'imposizione delle mani, Simone offrisse loro una certa somma perché gli conferissero quella facoltà pentecostale. Ma Pietro gli rispose, il tuo denaro ti accompagni in perdizione, visto che hai pensato di procacciarti il dono di Dio col denaro. Da Simone il sostantivo simonia è l'aggettivo simoniaco, affibbiato per la prima volta pare da Papa Gregorio Magno a chi si faceva pagare l'ordinazione dei sacerdoti. In seguito si estese a chiunque praticasse la compravendita di beni spirituali e di uffici ecclesiastici. Pietro, figlio di Dante, depreca la simonia in quanto procura che la Chiesa, sposa di Cristo, sia ingravidata dallo spirito maligno e così costringe Dio ad allevare figli adulterini e a diseredare i legittimi. Metafora matrimoniale che non sarebbe dispiaciuta a suo padre. Sappiamo come nel basso medioevo la comunità dei credenti fosse afflitta e stracciata dalla protervia delle pratiche simoniache e dall'immunità di cui godevano. Alla base è una questione di diritto. Ha la Chiesa titoli alla proprietà e alla giurisdizione di beni materiali eccedenti il minimo indispensabile all'adempimento della sua missione mistica e caritativa? Leggenda voleva che primo responsabile e malevadore delle pretese temporali dei papi fosse l'imperatore Costantino dal momento che traslocando la corte a Bisanzio il pio monarca avrebbe fatto atto di donazione della città di Roma e di molte altre spettanze imperiali a Papa Silvestro I, il quale pare lo avesse guarito dalla lepra e battezzato. Nel medioevo l'astuta leggenda era imposta ai fedeli, Dante incluso, sull'autorità di un protocollo falso che la filologia del Quattrocento si curerà di sbugiartare. Alcuni movimenti ereticali, i patarini ad esempio, ne dedussero che avendo Papa Silvestro trasgredito al precetto della povertà evangelica si fosse candidato con tutti i suoi successori alla dannazione eterna che compete ai simoniaci. Più cauto e dialettico ma non meno intransigente, Dante Alighieri impugna la validità giuridica della donazione. Nel terzo libro della monarchia argomenterà Costantino non poteva alienare ciò che di diritto spetta all'impero lacerandone la compagine già che non è lecito valersi dell'ufficio cui si è delegati per compiere azioni contrarie all'ufficio medesimo dove a norma del diritto umano convalidato dalle scritture ufficio peculiare dell'imperatore è quello di preservare l'unità della monarchia universale dal canto suo la chiesa era assolutamente inidonea a ricevere in dono beni temporali in forza dell'espresso di vieto fatto da Cristo ai discepoli non aspirate a possedere né oro né argento né monete nella vostra cintura né bisaccia per il viaggio Matteo 10, 9, 10 è dunque manifesto insiste Dante che né la chiesa poteva ricevere a titolo di proprietà né Costantino cedere a titolo di alienazione d'altra parte fatto salvo il principio della sovranità una e indivisibile dell'impero nell'ordine terreno all'imperatore va riconosciuto il diritto di concedere in usufrutto alla chiesa beni patrimoniali e quant'altro e al papa il diritto apostolico di riceverli per sopperire alle necessità dei ministri del culto e dei poveri di Cristo la donazione quindi fatta da Costantino e verosimilmente ricevuta da Silvestro con intenzione pia sortì effetti perniciosi solo per l'ingordigia dei successivi pontefici i quali si erano arrogata la proprietà perpetua di un bene del quale erano usufruttuari e di quante altre terre ricchezze e competenze nell'esercizio simoniaco del loro vicariato spirituale fossero riusciti a incamerare per sé e per i propri cari questo in rozza sintesi il pensiero definitivo di Dante sulla famigerata Donazio Constantini ma le idee esposte in proposito dal poeta attraverso gli anni non sempre collimano perfettamente contentiamoci della rozzezza e passiamo al canto che ha fretta di cantare oh simon mago esordisce dunque il poeta te i tuoi adepti miserabili che le cose di Dio le quali dovrebbero sposarsi con la bontà e voi invece rapaci le adulterate le prostituite per denaro animo è il vostro turno la tromba vi chiama sulla scena Dante d'accordo penserà alla tromba del banditore di piazza dato che state cacciati nella terza bolgia i poeti infatti che avevamo lasciato nella seconda sono già nel punto della passerella di pietra a piombo sul bel mezzo del fossato della bolgia successiva la seguente tomba oh somma sapienza torna a prorompere il poeta in omaggio alle risorse dell'arte divina che attuando un supremo disegno di giustizia distributiva mirabilmente si manifesta in cielo in terra e all'inferno e con particolare raffinatezza nella messa in scena che ha sott'occhio il pellegrino il quale contempla ora la pietra livida delle due coste e del fondo della bolgia butterata di buchi tondi tutti e tutti della medesima dimensione non mi sembra fossero né più stretti né più larghi ci spiega Dante a titolo personale associando pellegrino e poeta nell'io al passato che condividono dei fori che ci sono nel mio bel San Giovanni fatti per loco di battezzatori l'uno dei quali non troppi anni addietro feci personalmente spaccare perché un tale stava annegandoci dentro sull'episodio evidentemente abbastanza noto nella Firenze dell'epoca se Dante può permettersi di evocarlo in modo così ellittico dovevano essere fioriti equivoci e pettegolezzi tanto che per troncarli il poeta coglie l'occasione che si offre da sé e quei suggeri oculari che si elidono a vicenda e illazioni scientifiche che si accavallano dobbiamo ancora sciogliere il dilemma preliminare se la O accentata di battezzatori sia stretta o larga se cioè si tratti dei preti che battezzano battezzatori per i quali si favoleggia fossero ricavate nella pila ottagonale di marmo del Battistero di Firenze quattro piccoli alloggiamenti cilindrici oppure dei pozzetti pieni d'acqua santa battezzatori nei quali avveniva l'immersione dei bazandi o forse solo dei più piccini basta diciamo che qualcuno, un ragazzo sarà rimasto incastrato a testa in giù in uno di questi pozzetti che per cavarlo fuori il cittadino magistrato Dante Alighieri avrà disposto da autorità l'effrazione del marmo che la gente avrà porbottato al sacrilegio di sicuro c'è che quel tipo di pozzetti e quel tipo di incastro a testa in giù ritornano nella mente del pellegrino alla vista dei fori che crivellano la terza bolgia dall'imboccatura di ciascuno dei quali sbucano piedi e polpacci di un peccatore delle gambe in fino al grosso mentre il resto del corpo è conficcato nella roccia le piante dei piedi sono accese motivo per cui le giunture guizzano con tale violenza che spezzerebbero qualsiasi fune di vimini ritorta o corda di sparto stramba avete presente come la fiamma scorre su un oggetto unto lambendolo solo in superficie pur su per la strema buccia ecco così si muoveva la fiamma sulla pelle di quei piedi lì dai calcagni alle punte un pozzetto capta l'attenzione del pellegrino chi è chiede al maestro quello che se la prende tanto scalciando più dei colleghi e che alimenta con la pianta dei piedi una fiamma più rossa e viva alla lettera che è succhiato da una fiamma più rossa e il maestro se vuoi che ti porti laggiù per quella ripa che più giace cioè per il pendio del costone interno che è meno ripido saprai da lui chi è e che male ha fatto e il discepolo euforico bello per me è quel che piace a te il maestro il padrone qui sei tu e sai bene che quello che vuoi tu lo voglio anch'io e capisci benissimo anche quel che non ti si dice così i due si portano sull'argine numero quattro quello insomma che separa la terza bolgia dalla successiva si girano e si calano sulla sinistra a mano stanca fino al fondo del fossato fuoracchiato e arto angusto mal praticabile il buon maestro che aveva preso in braccio il discepolo non lo deposita finché non l'ha trasportato di peso sull'orlo del foro si mi giunse al rotto di quel che si piangeva con la zanca di quel tizio cioè che si disperava coi polpacci zanca è a giudizio degli specialisti migliori parola di origine iraniana che incapa un lungo periplo attraverso greco e latino a proda nel lessico dei calzolai alle lingue romanze dove si incontra con cianca che dalla persia ha raggiunto il bacino del mediterraneo per tutt'altra via sulle carrette degli zingari a questo punto dante ci racconta di essersi rivolto al simoniaco incastrato nel pozzetto con una certa insolenza tu chi che tu sia che te ne stai lì a testa in giù pover'anima piantata come un palo di qualcosa se ti riesce e intanto nel parlare ha assunto la positura del frate che confessa lo perfido assassin il quale già inserito nella fossa lo ha convocato per differire l'esecuzione capitale perché la morte cessa il vocabolo assassino dal plurale arabo hassassin che disegnava i membri di una setta di ismailiti i quali imbambolati dallo hashish commettevano i delitti più temerari in cieca ottemperanza agli ordini di un mistico veglio della montagna valeva nella lingua giudiziaria del 2300 sicario ed è da sapere che cacciati a capofitto in una buca che veniva via via colmata di terra i sicari erano all'epoca condannati a morte per soffocamento supplizio detto propaginazione con vocabolo ricavato dalla terminologia dei viticultori basta l'interpellato grida se tu già costi ritto se tu già costi ritto Bonifazio dove ritto ha il valore avverbiale che presenta nella forma qui ritto e sta per proprio costi ritto proprio costi allora il libro del futuro ma sbagliato di anni possibile che tu sia già stufo delle ricchezze per le quali non ti sei fatto scrupolo di sposare con l'inganno la bella donna e poi di farne strazio e chi sarebbe questo Bonifazio che vessa la moglie avvenente sembrerebbe chiedersi il pellegrino Dante quasi che del poeta che ha ordito lo sketch lui non ne sapesse nulla e eccolo lì con la coda fra le gambe come uno che non sappia cosa diavolo rispondere a una risposta che non ha capito cosa diavolo significhi Virgilio e tu fagli il verso digli non son colui non son colui che credi l'iterazione è figura retorica rafforzativa la aveva adoperata il simoniaco la riadopera il pellegrino sul suggerimento del buon duca con procedura che ricorda quella del comico da un spettacolo che risponde tartagliando alla spalla che tartaglia lo spirito è così contrariato che gli si torcono tutti i piedi indillagnoso istizzito ma allora che vuoi comunque visto che ci tieni tanto a sapere chi sono da scapicollarti fin qua giù sappi che io ho vestito il gran manto papale ma son sempre rimasto figlio dell'orsa io talmente avido di vantaggi per i miei orsacchiotti che son nel mondo intascato quanto potevo e qui mi sono intascato in un buco sotto la mia testa sono già stati tratti giù gli altri papi che si moneggiavano prima di me e ora stanno appiattiti astrati nelle fessure della roccia la celeste maestria di questo contrapasso lodata all'inizio del canto e certificata dalle immagini del battezzando e dell'assassino abbonda di referenze e di riscontri la visione di Alberico di sette frati monaco cassinense dettata agli inizi del dodicesimo secolo racconta ad esempio di simoniaci cacciati in un gran pozzo di fuoco un'altra visione monacale della quale fa menzione Pier Damiani narra ad un vecchio conte lorenese che avendo usurpato una proprietà della chiesa di Metz era dannato a starsene su una scala a pioli fasciata dalle fiamme e a discenderla gradino per gradino verso l'abisso al sopraggiungere d'ogni nuovo erede eccetera nel codice allegorico dantesco la pena inflitta i simoniaci che espiano un attaccamento cieco ai beni della terra conficcati in terra a capofitto mentre anticipa il contrapasso degli avari in purgatorio vedremo ripete la condizione degli eretici del sesto cerchio la distesa di buche le fiamme la specializzazione dei singoli reclusori la ripete e insieme la ribalta decimetro più decimetro meno questi disgraziatissimi simoniaci che hanno praticato l'eresia nel sotterfugio e nell'unzione li vediamo dimenarsi oltre l'orlo dei loro pozzetti dalla cintola in giù e le fiammelle che slittano sulla pianta dei piedi evocano la fantasia cimiteriale di aureole fatue insomma di una specie di controaureole per una specie di controsantità ma il nostro papa sottosopra non ha finito laggiù precisa nel magazzino delle anime pontifice in fondo al pozzo cascherò anch'io appena arriverà quello che pensavo tu fossi quando mi è scappata la domanda ma il tempo che ho passato io a cuocermi i piedi è già più lungo del tempo che passerà lui piantato in terra con i piedi rossi infatti gli terrà dietro molto presto uno che l'avrà fatta più sporca di lui un papa fuori legge che arriva dall'occidente ed è destinato a cacciarci sotto tutti e due sarà un nuovo Giasone e come il suo re fu arrendevole con quello con lui sarà arrendevole il re di Francia il Giasone o Iason citato dal papa a testa sotto è un ebreo che nel 175 avanti Cristo comprò a rate la carica di sommo sacerdote da re antioco epifane indi traviò i preti distraendoli dalla liturgia con mollezze e sfrenatezze alessandrine secondo Maccabèi 4 7 26 ma ammettiamolo l'omonimia con l'ammiraglio seduttore del canto scorso per quanto fittizia nel testo biblico che è in greco Iason sta per Ieashua insomma è Giosuè fa un certo effetto d'altronde tirandola un po' per i capelli la metafora coniugale che Dante predilige non rappresenta questi papi simoniaci come seduttori e ruffiani di una bella donna non li danna dopo tutto per circonvenzione e prostituzione di chiesa proviamo a schedare rapidamente i tre pontifici in ballo il nuovo Iason sarà Clemente V al secolo Bertrand de Gotte nativo della Guasconia in cattedra dal giugno 1305 all'aprile 1314 sue massime responsabilità a giudizio di Dante che non si stancherà di rinfacciargliele saranno il trasloco della sede apostolica da Roma ad Avignone 1309 e il tradimento di Arrigo VII imperatore 1312 prima convocato in Italia poi abbandonato al suo destino e alle sue titubanze ma forse altre e tremende ce ne sono anche se mai rinfacciate espressamente dal poeta qui tuttavia si allude solo alle sue laide pratiche simoniache e all'elezione barattata con re Filippo il bello di Francia contro l'impegno di pesantissime connivenze in realtà a questa elezione ordita in una latrina del palazzo di Perugia dove si celebrava il conclave e che resta uno degli episodi più grotteschi della storia medievale congiurarono circostanze e personaggi ben altrimenti assortiti di Bonifacio papa dalla vigilia di Natale del 1294 della sua scandalosa ascesa al soglio dei suoi svariatissimi misfatti che la simonia compendi a tutti e dell'odio indefesso di cui lo gratifica Dante Alighieri abbiamo iniziato a parlare nel vestibolo dell'inferno e smetteremo al sommo dei cieli qui ricorderemo in particolare la sua famigerata bolla unam sanctam che proclama la potestà assoluta del vicario di Cristo sulle genti e sui re alla sua morte che cadrà nell'ottobre 1303 un portavoce dei fraticelli spirituali ricordate esprimerà la convinzione si fosse trattato della bestia dell'apocalisse il pronostico del papa che parla e sgambetta secondo cui Bonifacio VIII sgambetterà meno di lui non è così arrischiato da costringerci a inserirlo nel canone delle profezie a posteriori Clemente era molto malandato e lui lo sgambettante sgambettava già da vent'anni lui cioè Giovanni Gaetano Orsini papa Nicolò III dal novembre 1277 all'agosto 1280 imparentato per parte di madre con Bonifacio a sentire il buon Villani fu il primo papa nella cui corte si usasse palese simonia per gli suoi parenti per la qualcosa gli aggrandi molto di possessioni e di castella e di moneta sopra tutti i romani in poco tempo che gli vivette insomma ingordo feroce ardito e attaccatissimo alla prole come un orsa utilizzò una potenza finanziaria illecitamente lucrata la maltolta moneta per fare spazio ai suoi orsacchiotti resecando egemonia e prerogative di Carlo D'Angiò nel centro Italia era peraltro bello e di gran tratto questo papa Orsini tanto che fu soprannominato il composto qui si dimena come un ossesso il pellegrino gli risponde per le rime e il poeta presentatore scusandosi col pubblico se da pellegrino gli è scappata qualche parola di troppo alle somme chiavi si deve pur sempre reverenza trascrive la memorabile tirata infila a scorno e tribolazione del vicario di Cristo una mezza dozzina di citazioni scritturali nostro Signore consegna a San Pietro le chiavi del regno dei cieli Matteo 16 19 lo stesso imbattendosi sulle rive del mar di Galilea in Simone detto Pietro pescatore gli dice solo vienmi dietro e quello va di fatto con Simone c'era anche suo fratello Andrea e Gesù adoperò il plurale Matteo 4 18 19 Marco 1 17 gli apostoli avendo sorteggiato Mattia per rimpiazzare Giuda da lui non pretendono un soldo per la cooptazione atti 1 26 il fedifrago popolo di Israele si è fatto idoli d'oro e d'argento Osea 8 4 la citazione dell'apocalisse di Giovanni 18 1 18 è più complessa e sarà in altra sede ripresa e variata sontuosamente qui basterà ricordare che nel testo dell'Evangelista la grande meretrice che siede sopra le acque accosciata su una bestia scarlatta con sette teste e dieci corna e puttaneggia con i re della terra è la Roma di Domiziano troneggiante sul mare dei popoli soggetti che la bestia incarna il potere sanguinario e satanico degli imperatori che le sette teste sono i sette colli fatali e via dicendo Dante incorpora la meretrice all'animale e in sintonia con numerosi movimenti profetici del duecento a vario tasso di ereticità legge nell'inguardabile mostro la Roma cristiana e nelle sette teste i sette doni dello spirito santo che suppurano nei sette vizi capitali sulle quali teste sono distribuite dieci corna che in origine significavano i dieci comandamenti e dalla chiesa di Roma erano radice e argomento fin tanto che a suo marito al papa cioè piacque la purezza delle virtù spirituali chiusasi l'aria in minore con l'apostrofe a Costantino mentre Dante si compiace di avergliela cantata il papa a testa in giù scalcia a due piedi Virgilio invece che col viso contento non si è perso una delle parole vere e schiette del discepolo ora lo abbraccia stringendoselo al petto risale il pendio per cui era disceso e non lo depone prima di essere arrivato in cima all'arco del ponte che tragitta all'argine successivo con questo soave cerimoniale ufficiato su una passerella di pietra ripida e disagevole anche per le capre si chiude come se era aperto il purpureo siparietto ecclesiastico mentre si spalanca alla vista del pellegrino d'oltretomba un altro vallone l'arco del pellegrino